Ciao, creatura. Io sono Elcate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai. Eccoci tornati con la nostra serie preferita, Regino di Cuori. Siamo arrivati al capitolo 2 della seconda parte. Ti chiedo scusa se non ho le belle unghie in questi video, ma vabbè. Poi, allora, detto tutto ciò, possiamo partire. Capitolo 2, tempi bui all'orizzonte. Il tuo stalker colpisce ancora. Ma la cena con la regina è in sé stessa una minaccia, specialmente dopo che non è molto gentile con te. Ma perché? Andiamo. Dopo una notte insonne, giri in tondo nella stanza, preoccupata per la lettera. Alicia, ho dei gravi problemi. Che succede adesso? Non mi sento a mio agio parlando di tutto questo a telefono. Non dire altro, arrivo. Dovrei portarlo a Ethan. Penso che possiamo fidarci di lui ora. Sì, credo di sì. Alicia arriva dopo un po' con Ethan. Al seguito, sempre preoccupato. Va bene? No, va tutto bene? Credo di sì. In realtà no, non va bene. Ho paura. Gli dà il messaggio. Non ci sono dubbi che questa sia una minaccia. Significa che è qualcuno nel castello. Immagino debba esserla. E se il principe fosse serio quando ha minacciato Ethan, non triamo conclusioni affrettate. Abbiamo una settimana. Abbiamo una settimana a capirlo, ma io non capivo prima se ero io che leggevo male o c'era qualcosa che non andava, ma credo sia la seconda. E se non dovessimo riuscirci? Beh, immagino che succederà qualcosa di grave alla prova della spada. Devo andare via da qui. Non andrei da nessuna parte. Hai lavorato tanto per arrivare dove sei. Ci prenderemo cura di te. Abbiamo solo bisogno di lavorare assieme. Sembra un filmur. Pensiamo di nuovo a questo E. Che conosciamo, che abbia una E come iniziale, ma chi è che scrive lettere minacciatorie e si firma un genio? Lady Emilia è di Lo Chef, ma non abbiamo interagito con nessuno dei due. Allora, che senso avrebbe uno chef, scusami? Io direi Lady Emilia. Magari è una che vuole il principe. Potrebbe essere Lady Emilia. è stata una fedele servitrice della famiglia di, ah, pensavo, di Jonathan per anni. E quindi, quindi non può essere una sospettata. E allora nessuno può essere una sospettata. Cosa vuol dire? Vabbè. Tutti sono sospettati per quanto mi riguarda, ed è vero, Alicia. Ma Lady Emilia non è nemmeno in Lizza, per l'amore del principe. Beh, in Lizza, quale sarebbe il suo muovente e il loro chef? Quale sarebbe il muovente? Immagino non ne abbia. Allora siamo ad un altro piccolo cieco. Allora cosa facciamo? Continua a fare ciò che fai sempre. Niente. Non sono sicura di poterlo fare. Sembra che tutti siano contro di me. Non le persone che contano. Penso che tutta questa situazione mi abbia fatto capire di chi posso fidarmi. Andiamo. Dovresti sapere quanto ci tengo a te. Mi sento così confusa. Lo so, ma posso dire con certezza, con una mano sul cuore, che sei l'unica persona di cui posso fidarmi, ma addirittura allora noi saremmo, ha detto, di fare come sempre, quindi sì, di fiducia. Sono ancora un po' di evidente. Credo di poter capire. L'intero posto è pieno di vivere. Voglio crederci, ma devi capire quanto possa essere difficile. Lo capisco, ma prometto che ti dimostrerò la mia fiducia. Immagino dovremmo provare ad andare avanti. Eppure abbiamo bisogno di discutere chi è dalla nostra parte e chi no. Il principe è certamente affezionato a te. Non sono sicura che sia una cosa buona in questo momento. Ho sentito cosa ti ha detto. Eravamo entrambi arrabbiati. Lo conosco. Non farebbe mai del male a nessuno dei due. Non fidarti di nessuno, Fionchi. Io, finché non si dimostrano affidabili. È vero. Di chi altro dovrei ti fidare? Non lo so. Rosetta, suppongo. Ma abbiamo guardato all'inizio. E per quanto riguarda tutti i suoi amici, ne dubito, non hanno nessun problema con te. Si sente delle voci, mio padre, che sta al telefono e urla. Vabbè. Sei con Rosetta? Sei abbastanza moda qui. Sembra che piaci anche alla regina. Ma quanto? Ok. Ok. Ma cosa mi dici? Ricordo alla cena di stasera. Sarei al sicuro ad un evento pubblico come quello. A meno che non ti avvelenino. Penso, no? Magari era il cuoco. Ci sono anche io. Servirò il cibo. Ma non lo cucivi. Immagino mi faccia sentire un po' meglio. Dovresti. Sono cintura nera in Kung Fu. Cosa cinta? Hai frequentato una lezione in seconda elementare? Ah, bene. Non rovinarmi una festa. Terrò gli occhi aperti per qualsiasi indizio. Parlando di cena, arriverai in ritardo se non inizi a prepararti da ora. Ma quanto ci mettono a lavarsi e vestirsi? Do a pettinarsi? Truccarsi? Vabbè, ma non ci metti mica un pomeriggio. Vabbè. Dovrai essere particolarmente fantastica stanotte. Mostrai i tuoi nemici e che non hai paura di loro. Mi piace. Che appigliamento sceglierai? Allora, c'è questo. Io l'oro perfect, scusami. Anche se non è che sia il massimo, però vabbè, dai. E fatto. Wow. Sei più sexy del solito. Sei molto gentile a dirlo. Allerta flirt, allerta flirt. Già. Vai là fuori e mostra al mondo che sei pronta a morire. Grazie ragazzi. Non so cosa farei senza di voi. Vai. Ok, ok. Ti dirigi con reluttanza alla cena con la regina e le altre lady. Arrivi alla sala da pranzo e trovi Rosetta a parlare con altre lady. Guardate cosa ha portato il gatto. Lasciami sola. Rosetta, non sono dell'umore. Qualcuno è di cattivo umore. È successo qualcosa? Squadra di Rosetta con sospetto, pensando che possa sapere qualcosa riguardo alla lettera. Effettivamente potrebbe, già, far pensare questo. Buonasera, lady. Buonasera, vostra altezza. Lady Antonia, sediti qui, accanto, oggi. Falle spazio, Rosetta. Rosetta sembra furiosa che il suo posto sia stato usurpato, ma fa ciò che le è stato detto. Come vanno le cose con mio figlio, Lady Antonia? Decidi di non parlare dei tuoi dubbi sul principe, sperando di scoprire più informazioni. Molto bene, lo confesso. Dobbiamo diventare buoni amici. Capisco. Parla molto bene di te. Sei felice? Sonda ancora. Sonda ancora. Cosa dice su di me? Attenta. La curiosità uccide il gatto. Lady Antonia. Le mie scuse, vostra altezza. Non chiedere mai quando non è appropriato. Lady Antonia. Ma va a far un brano. Comunque sia, non volevo sapere i tuoi sentimenti per mio figlio. E non lo sai. Voglio spiegarvi qualcosa su cosa significhi essere regina. La mia scesa al trono è stata difficile. Anche io ho dovuto guadagnarmi l'affetto di un principe. So che può essere spietato, ma questo è il punto. Devi essere resiliente per essere regina. Quando mio marito morì, tutti i doveri sono stati lasciati a me. Deve essere stato difficile. Deve essere stato difficile. Lo è stato. Ma ho imparato tante cose. Sono diventato forte e stabile, senza bisogno di supporto. Ma ora il mio regno è giunto a conclusione. Mio figlio prenderà il mio posto. E non voglio che ciò accada. Mio figlio è un bravo uomo, ma non è capace di regnare da solo. Ecco perché ha bisogno di una moglie forte. E' forte, ha bisogno di una moglie forte. Ha bisogno di una moglie forte. Ha bisogno di qualcuno come me al suo fianco. Credete di avere ciò che serve? Non credo, lo so. Ammiro il tuo spirito, ma non dovresti essere arrogante. Ma ascolta, ogni roba che si fa non va bene. Se diceva ma è forte, avrebbe detto tipo Eh ma mi stai contraddicendo, non puoi. Tipo così, immagino. Vostra altezza ha ragione, ma sono semplicemente fiduciosa nelle mie capacità. Se lo dici tu. Il punto è che so chi voglio che scelga. Non riesce a capire se sto parlando di te, ma sorride. Ma non capisco niente. Ma solo il tempo mi dirà se ho ragione. E la scelta è sua, alla fine. I piatti arrivano prima che possa essere indietro. Altro. Sembra che la regina abbia finito con la conversazione. Dovremmo parlare di tutto questo un'altra volta. E ricorda, resta in guardia. La battaglia per il trono è un gioco pericoloso, mamma mia. Mentre ti inchini verso il tuo pasto. Dissenzioni le parole della regina. Sei confuso come non mai. Beh, come sempre. Oh, capitolo. Prossimo capitolo. Capitolo 3 della parte 2. Il vero erede. Una minaccia velata porta ad una rivelazione di proporzioni epiche. Ma cosa significa per il tuo futuro? Eh, non lo so, vedremo. Finita la tua cena con la regina, ti dirigi verso la sala d'ingresso. Il principe Jonathan ti sta aspettando lì. Resti immobile. Buona seva, Lady Antonia. Il principe è sempre imbarazzato e cerchi di andartene, ma lui continua. Com'è andata? Oh, beh. È stato abbastanza inusuale. Meglio che vada. In che modo? Niente, è solo che ho avuto una discussione interessante con la regina. Tua madre ha dei dubbi. Te lo ha detto. Non mi vuole lasciare il tuo anno. E tu che ne pensi? Hai ragione, tua madre ha ragione. Ma diamo ragione a tutti? Ma mi stanno tutti attipatici adesso. Non si capisce mai. Ogni risposta è sbagliata. Quindi do ragione a tutti. Credo che saresti un buon re. Mi conforta sapere che la pensi così. Non molti concordano. Sono cinici. Dimostrerei a tutti che hanno torto. Lo spero, Mileti. Non credo che la mia opinione su di te come re abbia importanza. E beh, perché no? Perché la mia opinione su di te come persona è stata corrotta considerevolmente. Mileti. Non ho molto da dirti. Ciò che ho detto a Ethan mi sono scusato con lui. È il mio migliore amico. Non voglio che qualcosa ci metta conto. Quindi se volessi stare con lui permetteresti che accada. La scelta è la vostra. Ma ovviamente nessuno può fofosarvi. 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 In alcun modo. Beh, è vero. Ma devi capire che trovo difficile evitarmi di te. Lo so. E mi dispiace che le mie azioni ti abbiano fatto sentirve così. Beh, immagino che tutti meritino una seconda possibilità. Questo significa molto per me, Mileti. Mileti. E io mi aspetto che dimostri a tua madre che la sua opinione su di te, come re, è sbagliata. Spero che tutto questo non ti abbia ridato troppo. Onestamente mi ci sono abituata a diventare una femmina. Cosa vorresti dire? Mia madre ed io non ci vediamo faccia a faccia da un po'. Perché no? Mia madre. Pensa che non sia concentrato. E per lungo tempo non lo avevo. Volevo solo divertirmi. Scusa per i suoni, ma sai, appartamento, quarantena. Beh, comprensibile. Odiava l'idea che avessi una vita normale, ma ho sempre resistito. Avrei fatto la stessa cosa. Il punto è che non sono il lovo che vede al duono. Oddio, cosa? Sono il secondo inizia. Non ho mai pensato che questa responsabilità vi cadesse su di me. Non capisco. Posso dire... Posso dire... Se vuoi sapere. Sì, secondo me gli è morto un fratello, anche il fratello maggiore. Ok, vediamo. Sì, dimmi tutto. Ok, quattro anni fa. Il principe Jonathan cammina in agitazione nella sua stanza. Sua madre lo guarda con calma. Come hai potuto farlo? Ah no, scusate. Come hai potuto farlo? Di che parli? Sì, invece, è mandato via mio fratello. Se ne è andato di sua volontà. So che sei stata tua a spingermola. Ha deciso di lasciarsi dietro le responsabilità. Ma perché Eva Ponto voleva essere... E sarebbe stato un re terribile. Solo secondo la tua opinione. Rumori che fa mio padre a me. Lui e quella sua moglie sarebbero stati un male per il regno. O va, capisco. Ecco perché lo hai fatto. Fatto cosa? So che hai preso del tesavo dalla tesoria via. Vabbè, teso ve... Teso ve... Teso ve... Teso ve via, vabbè. Non essere ridicola. Bettina. Quanto lo hai pagato per mandarsene? Ha seguito il suo cuore. Voleva andarsene. Non significa che tu non lo abbia incovaggiato. È meglio che se ne sia andato. Non dire cose insensate. Perché ora, quando mi farò da parte, qualcuno degno prenderà il mio posto, il principe si ferma sul posto, fissando la madre. E questo è il motivo per cui lo hai fatto scappare. Ah, è questo il motivo per cui lo hai fatto scappare. È una domanda. Voglio ciò che è meglio per il regno. E credi che io sia il meglio per il regno? No, credo che tu sia l'opzione migliore, ma non buona, non ancora. Wow, grazie per l'incovaggiamento. Mi sento meglio. Ti insegnerò. Soffa il mio cadavere. Non parlare così. Capisco la tua rabbia, ma questo non ti aiuterà. Jonathan, è il momento che ti prenda qualche responsabilità. Sono stanca del tuo comportamento. Quindi questa è la mia posizione. Molti ragazzi sognano di essere il re. Jonathan, non io. Allora, cambia i tuoi sogni. Questo sarà per sempre il tuo destino. Questo è il modo in cui deve essere per il bene del re. Non posso credere che tu lo abbia fatto. Hai mandato via mio fratello. Eva, mio amico. I re non hanno amici. Solo sudditi, scusa. Ormai è andata. Accettalo e vai avanti. Non sapò mai chi vuoi che io sia. Che rebel. Mamma mia. Hai così tanto potenziale. Ma scegli a voi sempre di trovare scusatolo. Solo per far te tolto. E sfigato. Cioè scusami, ma te mi hanno sfigato. Solo per far tolto alla madre. Ma prendi il comando della situazione. E fa il rap. E fa il rap. Porca miseria. Sti uomini. Veramente. C'è un amico a dodici anni. che fa il rap. La regina sospira delusa. Girando le spalle al figlio. Mi deludi costantemente. Figlio. Ma diluso me che non lo conosco neanche. Precherò che tua moglie sia di tempo più forte. La regina lascia la stanza. Lasciando Jonathan ad affliccersi. Per la dipartita del fratello. Vabbè mi è andato via. Non è morto. Non mi spieghevo mai. No. Non mi pieghevo mai a te. Ma dove? Il principe alza lo sguardo. Ma la regina è già andata via. Che volevo più caos possibile. Ma va. Mi sto antipatico. Ho già avuto. Forse non si è capito. Ho passato tutti questi anni. Mi c'è avvocato di poca ave mia madre. Posso capire perché. Ma ha significato. Dova scuovare la mia educazione e allenamento. Non ho mai impavato cosa vuol dire. Svevevevev. Sveveve. Svevevev. Scusatemi. La parola con la G. Sei noto per esserlo. Forse. Ma non sono ancora buono. Non posso farcela. Vedo che ciò che sia accaduto. Propri che non sono buono. Per tutto questo. Mi sono un coglione. Io non me lo sposo, scusatemi. Cioè me lo vorrei sposare solo per prendere il posto di comando. e ti diventerai la regina ma lui come uomo non vale nulla mi dispiace ma non vale nulla ma perché? ho bisogno di maggior esperienza puoi sempre iniziare ad allenarti ora si ma senza di essere un po' invidato ci sono talmente tante cose da imparare cosa non sai? beh non so nulla sul parlare in pubblico per favore avevi tutte le ragazze i tuoi piedi al ballo di benvenuto sei davvero così ignaro del tuo stesso fascino? questo cosiddetto fascino funziona su di te? no perché sei un coglione no ti piacerebbe? eh suppongo che il mio fascino possa fallire puoi affascinare qualsiasi altra donna tu desideri è un peccato che tu sia l'unica che voglia voglia affascinare affascinare comunque sia non si tratta solo di parlare in pubblico cos'altro ti preoccupa? la mia immatuvità è impressionante ciò che ho detto a Ethan e va così sbagliato no sei un viziato beh va bene oggi c'erano le parolacce devo tagliare un sacco di parti tutti sbagliano ci sono anche tante altre cose tipo tutto mia madre mi ha fatto vedere di essere incapace di governare ed è vero hai bisogno di credere più in te stesso i bambini che urlano fuori più facile a dirsi che a false hai ragione ma quando salirei al trono capirai come grazie mille di grazie di credere in me non credo in te vabbè ma credo forse ma credo forse ma credo forse mente di avere bisogno di una vecina forte al mio fianco lo credo anch'io ma Lady Antonio questo mi lascia con un dilemma ovvero la mia idea di forte è diversa da quella della regina cosa intendi? prima di poter rispondere una guardia spunta fuori dalla sala da pranzo e ti chiede di seguirla torni nella sala da pranzo confusa cosa intende lui per forte? la regina ti aspetta dentro si gira a guardarti quasi arrabbiata potresti cercare di essere un po' più discreta Lady Antonio cosa vorresti dire? la gente inizia a notare dei tuoi piccoli chiacchierate col principe vuoi causare uno scandalo? si va bene certo che no se continui così succederà mi dispiace vostra altezza non volevo tutto di nascosto bisogna fare mi raccomando insegnamenti giusti certo che no ma lo hai fatto non preoccuparti cara ringrazia che te lo abbia detto cambia atteggiamento inizi a sembrare disperata veramente lui che ci ha chiesto di parlare vabbè si vostra altezza grazie dell'avvertimento ora torna di corsa nella tua stanza e smetti di secondare mio figlio fai un cenno alla regina girandoti ma questo è il narratore fai un cenno alla regina girandoti andandotene c'è un sacco di errori in sto gioco mentre torni alla tua stanza vedi Alicia alla fine del corridoio ehi chica com'è andata la cena? strana la regina ha passato tutta la sera ad allontanarmi dal figlio ma perché era pronto voleva essere re non lo so continuavo a parlare di scandali e di regine e forchi credevo fosse a favore di averli sul trono forse no Rosetta potrebbe essere la sua preferita a questo punto glielo lascio chi sceglierebbe quella strega al posto tuo? no ah 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 non riesco ad immaginarlo inizio ad insospettirmi sembra che ci sia qualcosa di più grande sotto allora cosa vuoi fare? terrò gli occhi aperti capirò cosa sta succedendo ah finito ecco altri due capitoli sono andati ci vediamo domenica sera con un altro appunto altri due un altro episodio quindi altri due capitoli di questa fantastica avventura mamma mia è sempre più trash mettimi un piace iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanella ciao creatura buonanotte buonanotte ciao creatura grazie a tutti